Ecco, questa è la seconda parte di Kingdom of Sky, sono sempre Nerd Rock 89 con Max in the Best, o Maxetto? Max in the Best, questa volta è Max in the Best il fratello. Allora, dove dove mandare, mandare di qua, non mi sa le torce. Sì, sì. Ah, che sei, no, no, non di qua, che cavolo sto dicendo, di là. Eh, cavolo. Vai proteggimi. Eh, sei cosa, sei cosa, sei cosa, non mi ha detto che la maggior parte dei combattenti è che tu prenditi con l'incantato, che è meglio, non ce l'ho la roba incantata, ho già i pantaloni incantati. Sì, prenditi la roba incantata, dammi la roba normale. Ok. Allora. 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 Ok, vabbè. Oh, c'è qualche ragno qua sopra. Eh, se solo avessi... Ce la vai? Sta per finire... La spada. La spada, sì. Eh, ma qua c'è un sport. Perché qua due crimini, un enderman, non si capisce più che cosa c'è. Oddio, ho paura. Ho paura. Ho paura. Dangerous, secondo che cosa vorrà dire. Oh, nende, beh, non guardiamolo. Anzi, facciamo le scuole per con i creeper. Cazzo. Cazzo, 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 la spada, la spada, la spada, la spada. Merda, sono un cuore, un cuore, un cuore, un cuore, un cuore, mezzo cuore. Eh, aiuto. Cazzo, 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 cazzo. Marda. Siamo a cavolo. Cazzo, 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 cazzo. Dov'è? Sento, cazzo. Paura. Cazzo, cazzo. Dov'è cavolo? Cazzo, cazzo. Dov'è cavolo? Cazzo. e' un peccato che non posso mettere blocchi perchè chiudere volentieri l'uscita sono incastrato mi serve un altro stico posso creare l'arco c'è un altro elman e cos'è questo si alzoni domizio cambia ok oddio cos'è sta roba oddio cos'è sta roba qui sono spune no non penso spune si trova si rompono troppo velocemente la sardegna scuola effetto ancora per vero sulla versione arco poi distruggere non no non si può distruggere cosa sono un tantinello impegnato bisogna sconfiggere il ragno musicale io inizio a salire ci vedo niente ma vabbè aiutare questo complimenti a mezzo delle scale uno scherzo cosa c'è spada di pietra gli sei preso sotto te no ti do ti do un pane l'hai preso tu no il pane si è quello ho preso io senti io ti do la pozione c'è il meglio pozione roba di creeper carne e marcia che ti piace tanto ah c'ha tre corbicelle wow ho trovato un'armatura a scaglie tu dammi la roba incantata come la spada dato che l'ho quasi finita aspetta ma tu hai siccome hai perso la roba tieni scusa ti do la roba le ho chiesto prima ma ero troppo impegnato a fare qualcosa e la spada eh la spada c'è la sunsward incantata eh vabbè va la troverò una io poi eh ma sono più veloce di te è troppo se troppo giovane se ne è sperto mi va la giovanità ok dai continuiamo su 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 ok faccio qualcosa cosa faccio dire un po' da più delle anni sento sento dei rumori ma qua eh no non posso non posso stare le ragnatele no no i blocchi non posso spaccare oh 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 c'è cos'è successo ah qua sta aperto con una con passaggio magicamente no c'era una cosa è creeper ok 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 sarà qualche cesto si torce frecce e una corazza di maglia ovviamente prendi tu e la corazza di maglia la vuoi se e non la prendo io perchè è l'unica che non ho che non e' ora come ora mi sarebbe più buono marco vabbè la questione c'è stata vendita qua si mandano le rovine ehm cominciamo che bisogna spaccarlo spaccare no e quando bisogna passare attraverso ah beh proprio fare passare c'è qualcosa si 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 bello no perfetto io e parkour siamo una cosa sola si miti no no non ho picchiato perfetto no non mangiare come allora senti no non sto registrando siccome non potremmo perdere un sacco di tempo a assaltare da un altro no non c'è bisogno di perdere stanza sempre io sono bravo a far parture poi è un parkour semplice bagno sempre se non ci siamo bagno ma che cazzo ma che pezzo di merda maledietto ma andavo ce l'avevo fatta ok ok ce l'ho fatto ce l'ho fatto lo ammazzo io tranquillo muori 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 ok che bevi di bello qua oh c'è sta aspetta aspetta dove vai aspetta raga di cuoio spada di pietra e di rotte di ferro una spada di pietra adesso ci si può fare un attimo non sei registrando eh dai cazzo ma che cazzo cazzo ma che cazzo sempre all'ultimo devi spostarti non verso il poloco unico ma verso l'altro no mamma mia che odio il parkour ma erati voi ok ok lui è accaduto molte volte per cui ho messo in pausa si certo eh quanti quali ti mancano no cuori no è proprio la barra della fame si quanti eh quattro e mezzo cinque e mezzo tieni una bella bracciala di maiale un bracciale di maiale ah qua poi ho preso un lingotto di ferro bravi di cuoio e una spada di pietra tieni l'ingotto si e anche questo se si trova una crafting si tratta qualcosa ah mi serve una stick comunque una? uno stick ah si per fare l'arco aiutami ok ho paura ah altro parkour no un pezzo no non bisogna andare di là eh scheletro infili con la spada infili con la spada infili con la spada infili con la spada oh uno spawn lo vedo io ta ta ho finito le torce no eh si 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 ce l'ho io quando no prendi la felcita e anche i gambali ce l'ho qualche torcia ce l'ho qualche torcia e io ho un'acqua ce l'ho qualche torcia oh un'acqua da quando è un'acqua no lo so me lo so trovato lo so chi è una spada no non ho bisogno della spada no non ho bisogno della spada quattacchio dipende ce ne sono già tre e allora ridammelo ok andiamo avanti dove andiamo no teatro no falso allarme oh no 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 eh dov'è? io sono sotto e sono sotto il tacco di creeper e rani ok il creeper esplode no mi direi che devi fare da poco no perchè ti ho seguito no che firla ho detto no se è caduto e ci siamo seguiti andiamo avanti ok abbiamo ripreso siamo caduti in un buco come dei babbi come i nabbi no babbi anche i pro possono sbagliare anche i pro possono sbagliare si si qua abbiamo una libreria ci sarà qualche cesto oh una libreria plastico oh si può incentrare la roba dicono io mi sono incantato io mi sono incantato arco allora vediamo se trovo qualcosa al 5 ok oh flagello degli artropodi inutile perfetto ciò potenco uno all'arco per cosa possa servire vediamo video 4 ok 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 allora dice che allora uno due tre oddio ok credo che hai capito come si ripara il ponte è troppo è troppo prima premere il bottone vedremo alla nostra destra il ponte ripararsi clicca voglio proprio vedere no clicca tu io ripendo vai vai quando poi vedi il video cliccato che scicata lol oh my god che canzone ok poi ci staremo anche tanti 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 per cui vediamo un po' quanto siamo e un bel po' no vabbè tra pause vale ok ok li ripara tutti e tre vabbè più o meno si è capito il meccanismo sì sì adesso iniziamo a parare tutto nel frattempo noi mi sa che possiamo andare di qua c'è una leva ho paura di prenderla eh ah 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 fra il momento mi piace di morire perdonate la mia exclusività ma sono troppo gasato yeah prego prima lei adesso se si bug al ponte inizia a cadere aiutato stiamo andando veramente ok, watch video 5 fa mi sa che possiamo finire l'episodio va bene, alla prossima puntata guarderemo il video 5 lui guarda il video 5 e andiamo avanti per la seconda parte della mappa ciao grazie, ciao a tutti da NerdRog89 e da Maxetto ciao ciao